Per il reato di contrabbando aggravato di sigarette è stato arrestato una 74enne battipagliese. L'operazione, volta a stroncare sul nascere il commercio illegale di sigarette sul territorio, è stata svolta dai finanzieri. Gli inquirenti, dopo dei controlli, hanno scoperto un auto articolato con un carico di tabacchi lavorati esteri di circa 70 quintali. Sottoposto a sequestro il carico delle sigarette, i finanzieri hanno poi applicato la misura cautelare nei confronti di un battipagliese di 74 anni. Sono ancora in corso le indagini per capire la provenienza e la destinazione delle bionde sottoposte a sequestro. Il fenomeno del contrabbando di sigarette, specie in questo periodo di crisi, è sempre attivo e le forze dell'ordine sono impegnate nel contrastarlo per cercare di evitare che poi la merce possa arrivare ai consumatori, che l'acquistano in maniera del tutto illegale e con ripercussioni su cui invece la vende in maniera legale pagando le tasse. Le operazioni di verifica e controllo di questi carichi di bionde proseguiranno anche nei prossimi giorni da parte della Guardia di Finanza e delle altre forze pubbliche.